Un caro saluto a tutti voi amici di Energy Sport TV, noi siamo in questo bellissimo campo degli arcieri e sono con Elisa Ballardini che è vicepresidente del comitato regionale ma in realtà oggi è in veste di? Presidente della società arcieri Muzziatendo lo Sforza di Cotignola. Allora bellissimo sicuramente far parte di una società di questo tipo perché credo che questo tipo di discipline insegni la concentrazione, la tranquillità, la pazienza o mi sbaglio? Sì in effetti è così, il tiro con l'arco è un'arte marziale, un'arte in tutti i sensi, bisogna essere persone molto tranquille e se non si è tranquilli bisogna imparare ad esserlo, sviluppa la coordinazione, sviluppa la tenacia perché comunque è uno sport che serve un po' di tempo per apprendere tutta quanta la sequenza di tiri quindi bisogna essere motivati ed essere tenaci, poi si diventa dei bravi arcieri. Allora Elisa a parte queste cariche istituzionali tu sicuramente sarai anche una tiratrice giusto? Sì io sono stata un'arciere fin dalla teneretà di dieci anni perché mio padre è socio fondatore della società che rappresento e quindi avendo archi per casa da sempre ho iniziato giovanissima, ho proseguito fino a circa i vent'anni poi dopo volevo fare anche qualcos'altro perché non si può sempre solo fare sport e quindi insomma dopo ho staccato per un po' e poi ho ripreso, ho una figlia che appena potuto le ho messo un arco in mano insomma a casa nostra si tirano delle frecce punto. Attenti a non farle arrabbiare mi raccomando. Allora la cosa bella di questo sport è che ho notato al di là delle cose meravigliose che mi hai sottolineato adesso quindi della pazienza, della concentrazione, della tranquillità interiore che ci fa bene poi nel lavoro dappertutto dovrei cominciare anch'io. Bisogna imparare a stare tranquilli e io delle volte dico conta fino a dieci prima di aprire la bocca qui bisogna contare fino a dieci poi si inizia a tirare quindi e avere il ritmo e i tempi giusti non bisogna avere fretta bisogna imparare a essere riflessivi è una disciplina è una disciplina in tutti i sensi aiuta molto moltissimo nella vita veramente. La cosa bella che ho visto prima è che c'era un ragazzo in carrozzina ed è la cosa che mi ha colpito particolarmente perché appunto parlando prima di iniziare questa diretta con Elena mi diceva che comunque è uno sport che può essere valido anche per le persone disabili. Sì, noi abbiamo una sezione dedicata ai CIP, al Comitato Paralimpico e la nostra nazionale è molto forte in questo senso perché abbiamo dei ragazzi veramente validi e c'è modo di poter sviluppare una buona attività sportiva anche se una persona ha delle disabilità. A Monte Cattone c'è il centro spinale dove i ragazzi che fanno riabilitazione iniziano a tirar con l'arco e di lì ne escono lo stesso Stefano Travisani che di recente ha vinto i campionati italiani alla Targa e viene dal centro di Monte Cattone. Nel giro di un anno, poco più, ha iniziato a tirare, ha raggiunto degli ottimi risultati, ha vinto la Coppa del Mondo, si è già guadagnato la qualificazione per Tokyo 2020. Insomma, non per dire ma gli arcieri sono sempre fortissimi. Allora, davvero sono cose emozionanti perché c'è bisogno di queste cose belle, soprattutto di questa integrazione ma soprattutto anche di questi poi risultati molto belli. Io so che tu sei qui però anche con dei bimbi, quindi da quando si inizia? Allora, l'età giusta per iniziare è intorno ai 10-12 anni, perché comunque prima sarebbero troppo piccoli, non sono coordinati già a 10-12 anni, chi più chi meno, insomma, è l'età giusta. E dopo, come in tutti gli sport del resto, chi è più portato, chi meno, però quella lì è l'età migliore secondo noi per iniziare. Per iniziare, sì. E concludiamo questa bellissima intervista con Elisa, che è stata davvero disponibilissima, con noi un gossip, un tiro che hai fatto disastroso, che è rimasto nella storia di cui ancora tu ridi. O tu dall'inizio sei stata precisissima? No, 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 guarda, assolutamente. Hai mai tirato e hai preso magari una gamba qualcuno? No, è possibile. Una gamba di qualcuno no, ma la gamba del cavaletto che sorregge il bersaglio, sì, quella sì, 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 tirata nel legno tante volte, tante volte, sicuramente. Allora ragazzi, mi raccomando, voi che siete a casa, che si state seguendo, non fate queste cose senza un istruttore, non inventatevi la mattina, adesso inizio a tirare, magari tirate in cucina nel sedere alla mamma che sta cucinando per voi. Assolutamente. Per trovarvi a voi come associazione Cotignola, una pagina Facebook? Noi abbiamo una pagina Facebook Arceri Masf e abbiamo anche un sito www.arcerimasf.it e come moderazione italiana di tiro con l'arco ha un sito, fitarco, fitarco.org, lì c'è una mappa di tutta l'Italia con tutte le regioni, si clicca sopra la regione e si vede l'elenco di tutte le società che sono presenti in regione, con i recapiti, quindi chi vuole tirare con l'arco sicuramente ci trova tutti, sì, dalla Valle d'Aosta, la Sicilia, la Sardegna, il Trentino Alto Adige, ci siamo tutti, non manca nessuno. Allora, bellissimo, io ringrazio davvero Isa, lascio proseguire perché oggi è una giornata di gare e comunque ricordatevi di andare a visitare questo bellissimo sito. Grazie, ciao, arrivederci.